Passiamo adesso alla pallavolo, neanche passate 24 ore dall'esonero dell'ex coach della Peniche Libera a Virtus Michele Drago che la società opantina nel giro di 24 ore annuncia il nuovo tecnico, un esterno. Si tratta di Davide Klaps, 58 anni, nativo di Potenza. Aveva cominciato la stagione in corso come allenatore della PM Volley Potenza, squadra in cui ha conquistato molti successi fino alla B2. Il divorzio dalla sua ex società è avvenuto nel corso della stagione odierna. A vedere il curriculum ha numerosi trascorsi a livello nazionale e regionale. La società dunque si apita a lui per risollevare un gruppo che in questo momento ha bisogno di ritrovare fiducia e serenità. Già conosciuta la squadra e diretto il primo allenamento, cercherà subito di fare bene a partire dalla sfida di domenica prossima, casalinga a Palavani contro il Pasano Gabolista.